Per il secondo anno consecutivo Tolentino, come la maggior parte dei comuni colpiti dal sisma, sta vivendo l'avvicinarsi del Natale come un momento di rinascita e per le tante attività commerciali presenti nel centro storico ferito come un momento di speranza. L'anno scorso naturalmente pensavamo che fosse tutto finito, proprio che il centro storico fosse finito. Invece devo dire grazie anche alla nostra amministrazione comunale che nel giro di una settimana avevamo tutte le strade e le vie di accesso aperte. Successivamente io ricordo in particolare una coppia, poi sono state tante le manifestazioni di solidarietà, ma in particolare una coppia che ha detto non credo negli sms e queste cose qui, però ogni giorno da Macerata veniamo a Tolentino, compriamo il pane, facciamo colazione, sono venuti due o tre volte da me per fare i regali. Quindi hanno detto tanto, dovremmo farli in ogni caso. Facendoli qui pensiamo che oltre a fare quello che avremmo fatto normalmente, facciamo anche un'opera di bene. E io veramente per me, io non so se ero appassionale, ma per me era veramente motivo di commuoversi in quelle circostanze. Per questo Natale i commercianti si sono uniti e il momento più buio sembra passato. Io direi relativamente bene. È vero che ci siamo impegnati noi commercianti quest'anno anche con il nostro comitato per fare in modo che lo shopping fosse divertente. Abbiamo ogni fine settimana spettacoli circensi che allietano un po' i bambini, gli adulti. Abbiamo raccolto tutte le forze, ci siamo uniti e abbiamo reagito. Quindi tutto sommato stiamo lavorando. Non ti voglio dire che sia il momento migliore della nostra storia, però tutto sommato, nonostante tutti i problemi che abbiamo, i problemi del terremoto, le persone che non sono ancora rientrate nelle loro case, che sono tantissime, alla vicinanza anche dei centri commerciali che bene o male attirano molto l'attenzione dei potenziali clienti. Devo dire che noi resistiamo e io dico che ce la facciamo.